Martedì, 17 dicembre 2019. San Giovanni de Mata. Dal libro della Genesi. In quei giorni, Giacobbe chiamò i figli e disse, Radunatevi e ascoltate, figli di Giacobbe, ascoltate Israele, vostro padre. Giuda, ti loderanno i tuoi fratelli. La tua mano sarà sulla cervice dei tuoi nemici. Davanti a te si prostreranno i figli di tuo padre. Un giovane leone è Giuda. Dalla preda, figlio mio, sei tornato. Si è sdraiato. Si è accovacciato come un leone e come una leonessa. Chi lo farà alzare? Non sarà tolto lo scettro già Giuda, né il bastone del comando tra i suoi piedi, finché verrà colui al quale esso appartiene e a cui è dovuta l'obbedienza dei popoli. Dal Salmo 71. Venga il tuo regno di giustizia e di pace. O Dio, affida al re il tuo diritto, al figlio di re la tua giustizia. Egli giudichi il tuo popolo secondo giustizia, i tuoi poveri secondo il diritto. Venga il tuo regno di giustizia e di pace. Le montagne portino pace al popolo e le colline giustizia. Ai poveri del popolo renda giustizia. Salvi i figli del misero. Venga il tuo regno di giustizia e di pace. Nei suoi giorni fiorisca il giusto e abbondi la pace, finché non si spenga la luna. E domini da mare a mare, dal fiume sino ai confini della terra. Venga il tuo regno di giustizia e di pace. Il suo nome è duri in eterno. Davanti al sole germogli il suo nome. In lui siano benedette tutte le stirpi della terra. E tutte le genti lo dicano beato. Venga il tuo regno di giustizia e di pace. Dal Vangelo secondo Matteo. Genealogia di Gesù Cristo, figlio di Davide, figlio di Abramo. Abramo generò Isacco. Isacco generò Giacobbe. Giacobbe generò Giuda e i suoi fratelli. Giuda generò Fares e Zara da Tamar. Fares generò Esrom. Esrom generò Aram. Aram generò Aminadab. Aminadab generò Nasson. Nasson generò Salmon. Salmon generò Boaz da Raccab. Boaz generò Obed da Rut. Obed generò Iesse. Iesse generò il re Davide. Davide generò Salomone da quella che era stata la moglie di Uria. Salomone generò Roboamo. Roboamo generò Abia. Abia generò Asaf. Asaf generò Josafat. Josafat generò Ioram. Ioram generò Uzziah. Uzziah generò Yoatam. Joatam generò Akaz. Akaz generò Ezechia. Ezechia generò Manasse. Manasse generò Amos. Amos generò Josia. Josia generò Iaconia e i suoi fratelli. Al tempo della deportazione in Babilonia. Dopo la deportazione in Babilonia, Iaconia generò Salatiel. Salatiel generò Zorobabele. Zorobabele generò Abiud. Abiud generò Eliakim. Eliakim generò Azor. Azor generò Sadok. Sadok generò Akim. Akim generò Eliud. Eliud generò Eleazar. Eleazar generò Mattan. Mattan generò Giacobbe. Giacobbe generò Giuseppe. Lo sposo di Maria. Dalla quale è nato Gesù. Chiamato Cristo. In tal modo, tutte le generazioni da Abramo a Davide sono quattordici. Da Davide fino alla deportazione in Babilonia, quattordici. Dalla deportazione in Babilonia a Cristo, quattordici. Alla prossima. Alla prossima. Alla prossima. Alla prossima. Alla prossima. Alla prossima.